Benvenuti o bentornati sul canale del sottoscritto, ovvero Federico Frusciante, un canale dove si parla di cinema, di musica, di letteratura, quasi tutto comunque collegato alla settima arte. Quello che state per vedere è un frusciante al cinema, ovvero un video di un film che ho appena visto in sala, che mi va assolutamente di discutere con voi, proprio perché, come sapete, io vado a vedere tutti gli horror e il film di cui parlerò è un horror. Comunque, come dico sempre, la prima impressione è relativamente valida, alla seconda, terza, quarta impressione, visione, soprattutto, potrei cambiare assolutamente opinione, potrebbe un film che non mi è piaciuto diventare un film che mi piace o l'opposto. E quindi, bando alle cianci, andiamo subito a parlare del film che ho appena visto in sala e che si intitola, appunto, Immaculate, la prescelta. Il film è diretto da Michael Mohan, che conosco solo per avere il diretto The Wire, mi pare, sempre con la solita protagonista di questo film, perché la protagonista del film è praticamente la adesso famosissima Sydney Swiney, che qui interpreta Cecilia, questa ragazza, praticamente, che diventa suora, dopo che praticamente la bambina stava qua per annegare in un lago ghiacciato, ed è convinta, quindi, di essere stata salvata da Dio. A questo punto riceve da adolescente l'invito, appunto, di andare in questo convento a Roma da tal padre Sal Tedeschi. In questo convento ci si occupa delle suore, insomma, malate, delle suore che stanno invecchiando, e la nostra va lì, praticamente, non da suora, quando entra, praticamente, da novizia, poi prende voti e diventa suora, davanti al cospetto del cardinale Franco Merola. E già di lì comincia ad avere dei sospetti, insomma, conosce la sorella Gwen, che sembra tanto amichevole, ma anche lei, insomma, nasconde qualcosa, e poi nel convento vede una suora, praticamente, che ha delle croci sotto i piedi, come se fosse stata ustionata, e poi, tutta un tratto, rimane incinta, però lei è vergine, perché ha fatto, appunto, tutti i voti di castità e tutto il resto che si fa, appunto, quando si diventa suora. Quindi, nel convento la prendono come una nascita divina, e sono convinti che, praticamente, nascerà un nuovo messia, appunto, da questo parto. E di lì, poi, tutto quello che succederà, perché, in realtà, naturalmente, il convento non nasconde di tutto, e la chiesa, appunto, lo stesso. Allora, bisogna subito dire che Moana non dirige male, riesce a tirare fuori dell'atmosfera, e anche discrete, la prima parte del film, assolutamente niente male, nel senso, proprio, di come è montato, di una fotografia, che, comunque, è molto bella, per come ricorda, a volte, a tratti, i movimenti di macchina, questo tipo di fotografia, a un certo tipo di utilizzo delle lenti, anche il nostro cinema italiano, come quello di Dario Argento, di Lucio Fucci, Mario Bava, che viene citato, assolutamente. Quindi, secondo me, ha i primi venti minuti del film, che sono anche interessanti, con un incipito molto interessante, che fa partire molto bene il film. E poi, incominciamo a conoscere i personaggi, e di lì, il film incomincia ad essere abbastanza interessante, proprio per come ricostruisce le atmosfere, appunto, grazie a questa fotografia di Elisha Christian, che riesce a donare, veramente, una grande forza gotica, diciamo, a questo convento, dove si respira un'area malsana, e questo è veramente molto interessante. E la parte iniziale, poi, è buona. La protagonista è ben inserita all'interno della storia, riesce ad essere molto credibile, in realtà, al di là delle critiche che ha avuto. E il film parte, diciamo, col botto, secondo me, riesce ad essere quello che The Omen, il nuovo First Omen, voleva essere, perché ci sono molte somiglianze alla studentessa americana che arriva nel convento, e via dicendo. E il film, più o meno, è dello stesso livello, solo che qui non si tocca Omen, si cerca di tirare fuori qualcosa di molto più particolareggiato, appunto, con l'idea che in questo convento si tenga, appunto, uno dei chiodi che hanno praticamente inchiodato Cristo alla croce. E di lì, poi, partirà una parte finale fantascientifica che, sinceramente, era abbastanza debole, nonostante poi l'epilogo non lo sia affatto. Per un film che, ripeto, tecnicamente riesce in qualche momento ad essere anche gradevole. Ripeto, alla prima parte, tutto sommato, si segue volentieri, ci sono, come ho detto, i movimenti di macchina puliti, ci sono degli attori che, in fin dei conti, se la cavano, che però piano piano vanno sempre di più a scendere, vanno sempre di più a caricare i personaggi, ed è un vero peccato. Per esempio, Alvaro Morte nel ruolo di Padre Tedeschi è veramente sprecato e buttato lì a cazzo di cane, e così come in realtà tutti gli altri attori, perché molti sono italiani, e nel ruolo di Gwen abbiamo una Benedetta Porcaroli che comunque ha il fisico, ha la faccia giusta, ma ha un doppiaggio veramente completamente sballato. Poi il film si muove attraverso, appunto, un'idea di voler fare un certo tipo di denuncia su determinate cose che a volte funzionano, a volte non funzionano. Proprio perché, ripeto, dopo la prima parte in realtà tutto comincia a essere un déjà vu, tutto comincia a essere rivisto, tutto comincia a essere risentito, e si notano solo degli interessanti ecchi, appunto, sociali sull'idea della donna e di come viene martirizzata e del suo utilizzo, appunto, come incubatrice in un certo senso, perché poi la nostra protagonista non è altro che semplicemente, seppur protagonista del film, un qualcosa che deve essere utilizzato nemmeno come essere umano, ma proprio come base per quello che vogliono fare, appunto, all'interno di questo convento, che chiaramente non vi sto a dire. Però il tutto poi comincia a incartarsi in una maniera incredibile attraverso una visione che la butta assolutamente sullo spettacolare e sulla voglia assolutamente di stupire, cosa che poteva benissimo essere evitata rimanendo più sul classico e raccontando qualcosa anche di più grottesco, di più surreale, di più sostanzialmente interessante. Perché poi quello che andiamo a vedere in realtà è una sofferenza che non esiste, è una sofferenza che non viene mai portata veramente di fronte allo spettatore. L'unica cosa che riesce a essere interessante è proprio la condizione che vuol dare il regista e lo sceneggiatore. Andrew Lovell sull'idea della donna, l'idea di come viene utilizzata nel mondo moderno e l'attacco anche alla chiesa, l'attacco a un certo tipo di mentalità, comunque è lieve, è troppo leggerino e non riesce ad essere funzionale a tutto quello che vediamo sullo schermo, che purtroppo è mediocre alla fin fine, perché quando si va al succo il tutto incomincia ad annoiare le condizioni delle situazioni, diciamo così, narrative, incominciano a ingarbugliarsi troppo, incominciano a uscire di scena personaggi che poi ritornano, che è telefonato alla fine che hanno fatto, per una condizione, ripeto, che purtroppo è quella di non mettere paura. Ecco, il film non mette assolutamente paura, due, tre sequenze tirano sulla tensione, non è un film completamente da buttare, ripeto, però è un'altra ennesima delusione del cinema horror americano che non riesce a spostarsi, questa novizia appunto del Detroit che va a rifine a Roma, è un'altra volta con la solita storiella e rimane incinta, c'è quella cosa che era molto più interessante nella chiesa all'ora della croce sotto i piedi, per una cosa che sembra portare da una parte che invece porta da un'altra, e ripeto, se si vuole comunque un'altra volta condannare determinati abusi dei maschi sulle donne, questo è fatto anche in alcune cose abbastanza bene, però il film a tratti riesce veramente a irritare come film horror puro, per alcune conseguenze che non sono mai maturate da una scelta veramente logica di una narrazione che ogni tanto si perde veramente in condizioni di assoluta inutilità, scene buttate a cazzo di cane per una forma che è quasi sempre perfetta, non c'è sciatteria chiaramente nella messa in scena, la messa in scena è pulita, è quadrata, il regista riesce a saper dover mettere la macchina da presa, i movimenti di macchina e tutto il resto, è costruito bene, l'idea del gotico ci sta, però poi alla fin fine quello che si sfalda, ripeto, è una storia, una storia che vuole raccontare tanto ma che alla fine racconta veramente poco, quindi nel film tramite appunto una condizione che porta in un certo senso a perdere la credibilità di tutto, si vorrebbe cercare di tirare una soluzione non manichea e questa magari interessante che a zero completamente il bene e il male e li unisce in una forma unica, ripeto, sostanzialmente l'attacco a quel tipo di chiesa, a quel tipo di convento è anche forte in un certo senso, però si perde perché poi non riesce ad essere inserito, come ho detto, all'interno di un qualcosa che nell'ultimo atto esplode esclusivamente in un paio di scene sanguinolente ben fatte ma che comunque spettacolarizzano il tutto senza arrivare veramente al sodo. Per una pellicola che vuole comunque evidenziare troppo i suoi colpi di scena e se il primo colpo di scena poteva essere anche gradevole poi il secondo è insopportabile e la parte finale riesce a essere veramente tirata per i capelli, ripeto, attraverso un'idea di montaggio, un'idea di ritmo che cambia esponenzialmente senza mai però avere il modo e il motivo per farlo attraverso una serie di situazioni che sono una più brutta dell'altra tranne comunque come ho detto gli ultimi pochi minuti che non sono veramente male ma per il resto è un filmetto, un filmetto di quelli che comunque vanno avanti perché secondo me a differenza di quello l'ho detto la protagonista è di molto in parte di molto brava a fare questa bellissima suora e riesce in un certo senso a portare avanti un certo tipo di cinema appunto che veniva fatto appunto all'interno dei conventi, era l'annunxploiation come si chiamava appunto con le suore assassine, suole maledette, suone di vis, suone di là, mi viene in mente anche roba tipo l'altro inferno del grande Bruno Mattei che perlomeno ci faceva divertire qui, ecco quello che manca veramente è un certo tipo di voglia di non sapersi spostare, volere essere classici a un certo punto, volere essere postmoderni, non voler essere troppo violenti, voler criticare un certo tipo di società, poi però distaccarsene per poi aprirsi a una condizione assolutamente innaturale appunto degli eventi che vengono narrati e che diventano assolutamente poco credibili e anche troppo arzigogolati, veramente ed arzigogolati in una maniera assoluta. E quello che funzionava pure le atmosfere, quindi sinistre, pericolose come ho detto che ricordavano anche un certo nostro tipo di cinema in realtà si vanno a spengere per cercare semplicemente di accattare più pubblico possibile ed arrivare a un finale che possa accontentare un po' tutti. L'icola che tutto sommato non ha tutta da buttare, ripeto, ha delle condizioni che sono interessantissime, anche se in un certo senso troppo spettacolare, comunque tutte le scene nella catacomba girate praticamente e quasi tutte con la luce quasi naturale delle torce sono notevoli e qui ricordano in un certo senso qualcosa che addirittura può essere quella villa accanto al cimitero, poi una città dei morti viventi, ripeto, però tutta quell'aura sinistra appunto del cinema argentiano, di un certo tipo di cinema italiano, ma anche non di genere appunto molto gotico e anche lovecraftiano si va a spengere, si va a spengere perché poi alla fin fine non rimane altro che un pugno di mosca in mano, nonostante ripeto la buona tecnica di tutto quello che viene messo in campo, però alla fin fine ripeto non si regge al gioco, è un film che non ha della forza nel fondamenta, perché le fondamenta lentamente scendono sotto il peso di una narrazione che non riesce a essere mai compatta, mai veramente, solo la prima mezz'ora riesce veramente a essere compatta a sinistra finché lei rimane incinta, tutto ok, è tutto veramente messo così in maniera che disturbi anche lo spettatore, poi lentamente però si incomincia a scivolare nel mare dell'ovvietà e tutto insomma rende il film una cosa modesta, mi do l'occhio di scuro, non è un film orribile, non è un film bruttissimo, è un film che si riesce anche a guardare via poi al cinema, un'occhiata lì si dà sempre volentieri, però ripeto mi aspettavo qualcosa di più e invece mi sono ritrovato in una specie di Omen un'altra volta, un po' meglio di quello secondo me, ripeto, perché qui perlomeno l'atmosfera viene beccata, di là si prova con una mano chiesce da una vagina a far paura a qualcuno, qui perlomeno ci si prova con l'atmosfera, ci si prova con la tensione e ci si prova anche appunto con questa idea della logica della maternità fatta con violenza, fatta con aggressione, senza appunto la voglia della donna di poter avere una scelta e quindi tutto questo politicamente e socialmente può essere interessante in un mondo come quello di oggi, però il tutto però viene mangiato e fagocitato in un certo senso da quello che poi è la realtà dei fatti, ovvero un oraretto come tanti altri che si butta giù ma del quale rimane assolutamente pochissimo sapore in bocca perché sembra di bere un bicchiere d'acqua e nemmeno troppo fresca. Ed è un film purtroppo di promesse non mantenute, sono accennate ma alla fine non si arriva però dove si era promesso e quindi il film si spenge lentamente attraverso appunto una bella messa in scena, una cura sicura ma assolutamente una mancanza di dettagli nella sceneggiatura e le psicologie dei personaggi tranne appunto quella della nostra protagonista che diventa più martire, diventa più vittima in realtà che protagonista diventa quasi una marionetta e ben interpretata, ripeto per il resto in realtà il tutto poi diventa essenzialmente macchiettistico e alla fin fine ci sono anche un paio di scene che bisogna dirlo a me mi hanno fatto anche ride, senza considerare poi tutto quello che riguarda la modificazione genetica e l'attacco anche verso la stessa, tutto il dibattico che può venire fuori appunto dall'aborto, dall'antiabortismo, da tutto quello che è appunto un certo tipo di pensiero o non pensiero perché per me insomma l'aborto lo fa la donna e quando vuole e quando ripare lo dico subito quindi decide lei non ci sono cazzi però per un film che comunque anche in questo caso almeno in questo caso fortunatamente lascia lo spettatore in mezzo a un dubbio e non lo assale appunto con una totale leccata veramente papale chiamiamola così, quindi è interessante come regista probabilmente ci volesse parlare appunto di un'istituzione religiosa che prende il corpo di una donna per farci il cazzo che gli pare e questa è una cosa molto interessante ripeto peccato che il film non faccia paura come deve, aveva tutte le possibilità di farlo, aveva l'attrice per farlo che anche la produttrice si è innamorata della sceneggiatura è diventata produttrice esecutiva e quindi è un film assolutamente molto soggettivo ripeto non è una cagata colossale, non è veramente un bel film, è un film di mezzo, uno di quei classici film che può garbare di più o di meno ma che almeno secondo il sottoscritto veramente non lascerà un minimo segno, l'unico segno che può lasciare questo film è lo sguardo spaesato della protagonista quando è incinta, quando appunto fa il gesto finale e poi per il resto in realtà ripeto grande confezione, idea di una messa in scena per niente sbagliata, movimenti di macchine anche giusti, atmosfera beccata quasi sempre ma poi le cose incominciano a crollare ripeto e il film non ha una coesione che bisogna mantenere per cercare insomma di portare lo spettatore dentro una storia che a un certo punto si sfalda completamente per via di una situazione che viene esasperata al limite e che alla fine non conduce veramente all'orrore puro, detto questo il film comunque può garbare, ripeto è nelle sale ora, provate ad andarla a vedere, questa è immaculata la prescelta, per me ripeto è un orretto come tanti altri, io un'occhiata gliel'ho data, il tempo l'ho passato ma n'è veramente né più né meno quindi un film super dimenticabile che probabilmente fra sei mesi nessuno si ricorderà ed è anche giusto perché non c'è veramente alla fine una sequenza così potente da lasciarci interdetti, è tutto ben fatto ma è tutto anche piallato su un sistema che sembra appunto quello del nuovo orretto americano che comunque succhia succhia alla fine lascia veramente po' nonostante ripeto non sia completamente da buttare, il link del film qui sotto non ve lo posso dire che c'è perché naturalmente non è ancora uscito in un video, vi posso dire che qui sotto c'è il mio link per donare su Patreon andare su Patreon e avere la vostra mini recensione, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Gio per l'Italia e poi questo film ripeto ha dalla sua delle parti tecnici ben fatte, ha una musica interessante, ha delle parti che funzionano però non ha mai niente che rimane veramente nello sguardo dello spettatore, non ha una sequenza che spacchi sul serio e alla fin fine è un orretto come tanti altri, sicuramente meglio fatto di tanti di roba tipo Nun o la Lorona ma però che è una di quelle cose insomma che come ho detto le guardi e te le scordi. Quindi un ringraziamento speciale a tutti quelli che mi seguono, continuate a seguire il canale, dopo ci sono le solite 4 mini recensioni appunto su Patreon tutti i giorni, poi arriverà probabilmente la monografia di Riverstone o le saghe su Basket Case e Baby Killer, quelli sì veramente degli horror e poi insomma i consigli del mese che arriveranno a fine mese. Il 14 luglio sono a Milano per una serata Menotti in Sormani, andatevi a informare, ci sono gli ultimi biglietti e poi sarò lì con voi insomma a chiacchiera del cinema parlando appunto dei migliori e peggiori film del ventunesimo secolo, fate un po' di nuovo insomma vi aspetto, un abbraccio a tutti quelli che mi vogliono bene e un abbraccio gigantesco a mia moglie senza la quale nessun video esisterebbe. Buona!